In attesa di scoprire quale sarà l'ultima promossa in Serie B tra le semifinaliste playoff Parma, Pordenone, Alessandria e Reggiana, le altre 21 squadre del torneo cadetto pensano alla nuova stagione partendo ovviamente dalla panchina. Il condottiero giusto è la prima mossa per ripartire e disputare un campionato all'altezza. E' questo il pensiero generale delle formazioni del torneo di B che tra riconferme e sorprese si accingono a preparare la stagione 2017-2018. Tante le conferme partendo da Novellino sulla panchina bianco-verde così come Stroppa a Foggia, Inzaghe a Venezia, Castorina a Lentella. Anche l'ex Avellino Tesser siedere ancora sulla panchina della Cremonese. Riconferma il rinnovo per Camplone al Cesena e per Venturato a Cittadella, autore di uno splendido campionato. Bollini non si muoverà da Salerno e Zeman a Pescara è un'istituzione e proverà a ripetere il miracolo di quattro anni fa. In bilico invece la posizione di Liverani a Terni, ballottaggio con poche esci nonostante la salvezza conquistata. Restando in Umbria andrà via da Perugia a Bucchi, destinazione Sassuolo. Al suo posto con ogni probabilità ci sarà Giunti. Cambio anche ad Ascoli dove è giunta la coppia Fiorin-Maresca, mentre a Brescia è tornato Boscaglia che ha lasciato il Novara. La società piemontese si affiderà a Corini, mentre il Bari, sempre alla ricerca della promozione, a breve metterà sotto contratto grosso. Dopo le dimissioni di Marino a Frosinone sbarcherà a Longo e la Provercelli si cautellerà con Grassadonia, ormai prossimo alla firma. Delusione playoff per il Carpil, dopo Castori porta il nome di Calabro. Lo Spezia, altra delusa degli spareggi, sarà guidata da Gallo. Infine le retrocesse Empoli e Palermo affideranno la panchina rispettivamente a Vivarini e probabilmente a Iachini, anche se la società rosa-nero è sempre ricca di sorprese.